Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. A Monteverde è momentaneamente chiusa al traffico via Ozanam. C'è una deviazione anche per le linee di bus 44, 870 e 982. Dalle 18 corteo tra Piramide e Trastevere. Saranno possibili temporanee chiusure al traffico, aggiornamenti su romamobilita.it. Sabato dalle 18 lo Stadio Olimpico si giocherà Roma-Verona. Il piano di abilità, sosta e trasporto pubblico per l'area del Foro Italico è su romamobilita.it.